Diamo lettura del bollettino di oggi. Il numero dei guariti oggi è 894, quindi il totale complessivo dei guariti è di 8.326. E di 3.612 l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale degli attualmente positivi è 54.030. Di questi 28.697 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 3.393 in terapia intensiva. Sono pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi abbiamo registrato un incremento dei deceduti di 743 persone. Io vorrei chiudere la conferenza stampa per quello che mi riguarda di questo mio intervento. Rivolgendo un augurio particolare a Guido Bertolaso che oggi abbiamo appreso tutti essere stato colpito dal coronavirus.